Noi, dai, dai. Settiamo oggi perché noi ci sono i draghi, i draghi, un po' un po' ora, non mi hanno senso perché non mi sono solo un po' di draghi, draghi, un po' ora, e soprattutto il po' ora, ma io per la pezziare, non mi hanno più, allora, ma naturalmente a chi per la adolescenza, mi avete un po' ora, però il po' ora non è una risonazione, che mi parella non mi ha ri stupedì. Anzalte... Anzalte, Anzalte! O alè... Grazie a tutti.